Le abruzzesi del girone F di serie D in campo domani pomeriggio alle 14.30 per l'ultima giornata del girone di andata e del 2023. Dopo il K.O. di Campobasso, il Chieti è chiamato a riscatto all'Angelini contro il fanalino di coda a Matese. Sarà la prima di due partite casalinghe consecutive, la prossima il 7 gennaio contro l'Atletico Ascoli, una grande occasione per i Neroverdi di risollevarsi e rientrare nella corsa promozione prima di andare a giocarsi una fetta di stagione nel derby in trasferta contro l'Aquila il prossimo 14 gennaio. Nel frattempo impazza il mercato. La prossima settimana sono attesi gli arrivi del centrocampista croato Vridogliac dalla Serie A Macedone e del terzino sinistro Tortora 2005 dal Napoli. Ci saranno movimenti anche in attacco con la società che è tornata alla carica per avere il centravanti bosniaco Maletic in uscita da Renate e in seguito da molte società di Serie D. Si vocifera anche di un possibile ritorno dell'esterno offensivo Mattia Di Mino, classe 2003, in partenza dalla Pistoiese. L'Aquila è impegnata nell'ultimo derby abruzzese del 2023 sul campo del notaresco. Cappellacci deve gestire l'euforia del momento, la vetta è a soli tre punti e la piazza ci crede. Quello che fino a poco tempo fa sembrava impossibile si sta materializzando. Nelle prossime ore arriverà l'ufficialità dell'acquisto del portoghese Costa Ferreira, ex Avezzano. Ma intanto dai nuovi acquisti che hanno debuttato domenica scorsa sono già arrivati segnali incoraggianti. A partire da Origlio, centrocampista offensivo, autore di un gol e di due assist che hanno permesso ai compagni di segnare e ribaltare il risultato contro il Termoli. Si è inserito bene anche Marcheggiani. Domani al notaresco tutti chiamati a dare il bis. Il notaresco, dopo il buon pari sul campo dell'atletico Ascoli, attende l'Aquila con tre dubbi di formazione, Belloni, Marrancone e Ferri, che ieri hanno lavorato a parte. Bruno proverà a recuperare tutti e tre per il derby di domani. L'Avezzano chiude in casa il 2023 e vuole farlo con una vittoria contro il Sora. Dopo aver perso a Fano con una brutta prestazione, i bianco-verdi si ritrovano oggi al quarto posto in classifica, scavalcati dall'Aquila, con cinque punti di ritardo nel campo basso. Serpeggia la delusione attorno alla scuola di Ferrazzoli e l'unico modo per scacciarla via è festeggiare l'arrivo della pausa natalizia con una vittoria.